le prestazioni meno brillanti rispetto alle ultime uscite anche perché il campo non ce lo permetteva un campo dal mio punto di vista dove non si può fare calcio un sintetico di prima generazione quasi quasi cemento dove logicamente abbiamo pagato noi in quanto sia una squadra tecnica di qualità e logicamente quando non si riesce a palleggiare a giocare si fa fatica a esprimere esprimere calcio a fare calcio però dai siamo stati siamo stati bravi a interpretare anche il campo la partita contro una squadra che veniva da una sconfitta sul campo della originatese per 52 per cui carichi di voglia volontà di batterci di cattiveria anche agonistica e noi siamo stati bravi ripeto a interpretare la partita bravi ad aspettare a lasciare fare il gioco più alto a loro e quando e quando abbiamo preso palla sono stati cinici e spiegati spiegati a realizzare le situazioni si sono venute a creare le situazioni tutte nel primo tempo dove con quel buon cinismo ne abbiamo ne abbiamo approfittato a fare tre gol il primo gol è scaturito da una ripartenza proprio con con casere se chiede si è conquistato un rigore è realizzato da da ortiz poi sempre e questo si c'è levantano al al decimo decimo dodicesimo il primo tempo poi sempre su un'altra ripartenza con 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 delle idee sulla destra che metteva in centro aria arrivava di testa con una grande forza casere se realizzare quello del 2 a 0 e dopo di che abbiamo chiuso la partita del primo tempo col 3 a 0 di ortiz anche lì con un'altra situazione si vengono a creare sempre con una con una gambella di partenza il momento si è chiuso così sul 3 a 0 secondo tempo la partita di vista è diventato un pochettino cattiva e da parte loro ha messo sul piano della della cattiveria delle idee hanno cercato un po di rissa noi si è stati bravi a non a non cadere nel canello non farci portare dalla loro parte e niente abbiamo preso due gol su due disattenzioni se palle inattive proprio perché in queste mische si veniva a creare magari qualche cazzotto di troppo qualche calcio negli stinchi qualche ragazzo cadevano ma veniva mancare la marcatura e si prendevano se si sono presi gol però alla fine abbiamo portato a casa abbiamo portato a casa con con personalità con carattere con voglia nonostante le loro prelucazioni sia stati bravi ripeto a non cadere le abbiamo portato a casa un buon risultato che ci proietta ora contro il serenio domenica un applauso ai ragazzi che su quel campo non era facile giocare non era facile fare risultato e da domani si mette da capo al lavoro e testa al serenio bravi tutti siamo avanti così